Partendo dalla giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre 2022 nasce l'idea della scala tematica all'interno della scuola Sita in Via Puglie, quella che fa parte per l'appunto del complesso Mazzini-Fermi. I ragazzi sono quelli dell'infanzia, ma anche della primaria e anche della secondaria. Con noi l'insegnante Roberta Rea. Allora abbiamo celebrato con la scala tematica anche il Natale, pure la giornata della memoria. Oggi tocca ovviamente alla giornata del ricordo, oggi 10 febbraio. Innanzitutto come si parte? Qual è l'idea primaria? Cos'è che origina questa scala tematica? Allora l'idea è nata per caso perché avevamo questa bellissima scala da poter utilizzare sì come auditorium, però ci è venuto in mente invece che, dato che abbiamo una bellissima olamagna e quindi non avevamo necessità di utilizzare questo gradone, ci è venuto in mente di utilizzare questa scala per celebrare, per sensibilizzare i nostri alunni per le giornate più importanti dell'anno. Giornate nazionali, ricordi. E quindi abbiamo cominciato proprio il 25 novembre con la giornata contro la violenza delle donne per poi continuare con il Natale con un albero realizzato completamente da ragazzi, con palline realizzate da loro e poi via via con le varie aggiornate. L'ultima prima di questa dedicata alle foibe è stata quella del Saffer Day, proprio per la sicurezza di internet, quindi contro il cyberbullismo e contro il bullismo. Tutti gli alunni vengono interessati nell'allestimento della scala. La prossima sarà quella di Carnevale, dove tutti i bambini della primaria lavoreranno insieme per dare un tocco di colore e di allegria alla nostra scuola. Prossimo appuntamento con la scala tematica Carnevale.